Quanto è andato? Vabbè ma chi sei chiamato prima? Dieter E' ma ci ho spiegato i brici tra cosa? Lì tipo? Lo sapevo per una cinquantina di fotografia di posto Cinquanta fotografia di me? Eh? E' caderevi qualche santuario? No, non c'avevi trovarato in tuo gabinetto E' un amiglio fettoso Pronta? Carabinieri prego E' che lì sta su cazzo Pronta? Un Beppe? Si Un Beppe? 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 Pronta? Vabbè ma voi annun saccheremmo sta dicendo per un uru di Uru di ma vuanda ci ne vengono ad ad un provo azzone da bar La mia moglie Sento mi sembravi dal 130 che ti rimane male un po' per tanto Si è venuta a bisogna comagnare lui E' venuta ai miei cattivi del sangue Tutti io e papena E' tardi io fai rompettando Ma che quello è il mio pressedio è Purnuto Ronda! Bene che arrivi al lodo! Un regalo può mettere in mano a cuore! Eh, io lo metto a cuore! Fuera! Ronda! Su! Su! Mi fa stavolvere quando è Pumbese! Mi fa stavolvere quando è Pumbese! Com'è quando è Pumbese? Ah, fatti che scavarì! Pronto? Si, pronto, dite! Pronto? Pronto? Fuora! Fuora! Come? Ah, si si è cacciato! Non sanno che non lo cacciavo, si è cacciato tutto! Pronto? Si? Pumbese! Sì, sono Paolo Gornoni! Sì, sono Paolo Gornoni! Sì, sono Paolo Gornoni! È tutto in una ricchietto scendoro, che non è colnico brillano da tutti! Mh, mh.